L'ospedale Santisidoro di Giare potrebbe ospitare a breve i degenti del nosocomio accese e quale conseguenza è indiretta dopo la decisione assunta dalla regione siciliana assessorato regionale alla salute di trasformare il nosocomio di Asciliare in un covid hospital. La notizia confermata dall'ambiente sindacale secondo cui a partire il prossimo 3 novembre i reparti del presidio ospedaliero accese saranno trasferiti all'ospedale di Giare ha suscitato ovviamente non poche reazioni a tutti i livelli. Il comitato di Vogliamo l'ospedale si pone alcuni interrogativi. Il personale verrà reclutato per garantire i servizi che si prospettano visto che quello in servizio d'aciliare sarà tutto utilizzato per l'emergenza covid. Inoltre secondo il comitato Giarese appare chiaro che così come prospettato e annunciato non sembra che i lavori di istrutturazione del pronto soccorso del Santisidoro possano essere completati e quindi ci sarà certamente un ritardo ulteriore degli stessi. Sappiamo soltanto che la struttura ospedaliera di via Fornalini prosegue ancora la nota del comitato di Vogliamo l'ospedale potrebbe oggi contare su 50 posti letto perfettamente agibili e 6 sale operatorie da poter utilizzare come terapie intensive ma il punto principale, dice ancora il comitato, al netto di tutto è soprattutto il reclutamento del personale. Secondo l'avvocato Santo Privitera, ex consigliere provinciale la notizia sulla trasformazione emergenziale dell'ospedale di Aciriale in un centro covid, oltre a confermare purtroppo la situazione di pericolo epidemiologico sul nostro territorio che ancora incautamente si minimizza e per cui necessitano misure precauzionali di altra misura trasformerebbe il nosocomio di Giare in una sorta di ospedale da campo per malati no covid, la cui esigenza per alcuni è oggi soltanto allocarli sotto un tetto senza la minima preoccupazione di strumenti e personale per la cura e l'assistenza medica. Grazie Grazie Grazie